Da oggi il servizio di protezione civile dell'Unione Pedemontana può contare su un sistema di comunicazione radioindipendente completo di ripetitori in grado di funzionare in qualsiasi condizione anche facendo gli scongiuri in caso di catastrofe. Il nuovo sistema che ha comportato un investimento pari a 35.000 euro è stato testato a Felino con una prova radio generale coordinata dalla Centrale Operativa della Polizia Locale e della Protezione Civile dell'Unione, centro nevralgico per la gestione delle emergenze. Mattinata che ha avuto inoltre uno scopo formativo per i responsabili del servizio e i referenti degli uffici tecnici comunali attivati in caso di calamità o di pericolo. La rete è costituita da 18 ricetrasmittenti fisse e mobili di cui tre a disposizione della Centrale Operativa della Polizia Locale e dei centri operativi misti di Collecchio Traversetolo che vengono attivati in caso di emergenza sovracomunale. Altre cinque per i COC, i centri operativi comunali, costituiti nelle sede municipali di Collecchio Felino Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, cinque radioportatili e cinque collocate sui veicoli in dotazione. Le radio si interfacciano con un software installato nella centrale felinese in grado di registrare le comunicazioni, geolocalizzare le ricetrasmittenti in tempo reale su una mappa e che permette al sistema di connettersi con le reti GSM, GPRS o MTS con i sistemi di comunicazione utilizzati dalle associazioni di protezione civile, dalle polizie locali, dal 118 e dalla prefettura. Le ricetrasmittenti sono inoltre dotate di appositi pulsanti per la richiesta immediata di soccorso e di sensori per lanciare in automatico l'allarme uomo a terra.